Le barriere sono sempre servite a respingere, chiudere, difendere uno spazio. Ma oggi, a Genova, si sta costruendo una barriera che serve ad aprire, allargare, permettere di entrare più facilmente. È la nuova diga foranea. Quest'opera amplia il porto e permette a Genova e all'Italia di accogliere navi più grandi e di competere con i grandi porti del nord Europa. La diga sarà composta da blocchi grandi come palazzi, chiamati cassoni, allineati uno di fianco all'altro per circa 6 chilometri. Enormi parallelepipedi di cemento armato larghe fino a 67 metri e alti fino a 33. Ma dove e come si realizzano? A Vado Ligure, a circa 50 chilometri da Genova. Questo è il Bacino Dario, una delle strutture galleggianti dove i cassoni vengono costruiti, direttamente in mare. Così, una volta completati, possono essere trasportati come grandi palazzi galleggianti. La costruzione del cassone inizia dalla cassaforma, un grande stampo che modella il calcestruzzo per creare il perimetro e le pareti interne. Il risultato è una grande scatola con dentro tante piccole scatole. Si verse il calcestruzzo nelle parti vuote della cassaforma, dove è stato precedentemente posato il ferro d'armatura. Quando si è solidificato, la cassaforma si solleva di qualche metro per ricevere altro calcestruzzo, fino a raggiungere l'altizia necessaria. Una volta completato, il cassone galleggiante viaggia verso Genova. Raggiunta la destinazione, appesantito con acqua, il cassone affonda e raggiunge la posizione prevista, per essere poi riempito anche con materiale di recupero proveniente dallo smaltimento della vecchia diga, in ottica di economia circolare. Così, cassone dopo cassone, la nuova diga foranea prende forma per dare a Genova e all'Italia un porto moderno nel cuore del Mediterraneo e dell'Europa.